Un'altra pagina esaltante da scrivere nel romanzo della storia della Fulgo degli ultimi 25 anni. La Paffoni, in effetti, sbanca il parquet di Aversa, mandando al tappeto una delle nobili decadute della palacanestro italiana, la Juve Caserta, scudettata nel 1991, riscattata immediatamente la brutta prestazione contro Legnano. I ragazzi di Ducarello sono stati avanti dal primo al quarantesimo, imponendosi con merito 73 a 65. Una partita cominciata nel verso giusto per i Rosso Verdi, capaci di trovare con grande facilità la via della canestro nel corso dei primi sette punti, con le triple messe a segno in rapida successione da Torgano e da Faziole, i protagonisti del primo allungo della Paffoni. Paffoni che ha chiuso il primo quarto, avanti di 13 punti. Nel secondo quarto il massimo vantaggio sul più 16, con i dardi di Piccarelli e ancora di Torgano. Poi un ultimo minuto in difficoltà, 7 a 0 per Caserta, che ha saputo limitare i danni all'intervallo, chiudendolo sotto di 8. 34 a 42. Nel terzo quarto i bianconeri sono arrivati con una fiammata di moffa fino alla meno 1. La Paffoni non ha perso la calma, ha ricominciato a fare le cose giuste in attacco e soprattutto in difesa. Con i liberi di Baldassari, le iniziative di Kozic e, come detto, dell'MVP del match Marco Torgano, ha rimesso luce tra sé e gli avversari. Ultimo quarto in cui Omenia ha controllato. Caserta ci ha provato fino alla fine, ma negli ultimi quattro minuti non è mai riuscita a riaprire veramente il match. E così i ragazzi di Ducarello hanno portato a casa il successo per 73 a 65. Due su due in trasferta. Ora c'è da sfatare il tabù Palla Battisti nella penultima partita, in cui la Paffoni giocherà a Verbagna sabato prossimo contro Cassino.